Considerato che l'area marina protetta di costa di Infresche della Massita è in gestione all'ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e il Burni, quest'ultima ha concesso, incomodato gratuito, alla Capitaneria di Porto di Salerno, a cui è assegnata la sorveglianza della medesima area, un battello pneumatico aventi caratteristiche tecniche, dotazioni ed equipaggiamento conformi alle circolari vigenti sulla standardizzazione, assegnato successivamente all'ufficio locale marittimo guardia costiera di Camerota, per l'attività di sorveglianza a mare dell'omonima area marina protetta. A tal proposito è stato approvato il piano generale di gestione, anno 2018, dell'area marina protetta a costa degli Infresche della Massita, che destina la somma di 15.000 euro per far fronte alla gestione e manutenzione del battello pneumatico B91 di proprietà dell'ente parco e concesso incomodato alla Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto, ufficio locale marittimo Camerota, ha chiesto la sostituzione dei motori del medesimo battello con altri due di nuova generazione, visto l'imminente arrivo della stagione estiva e per assicurare lo svolgimento dell'attività di sorveglianza nella medesima area. Al fine di ottenere un risparmio sulla fornitura, è stato disposto di provvedere all'acquisto con la permuta di motori in dotazione. L'ufficio competente ha individuato sul MEPA la ditta offerente motori richiesti con relativa permuta, alla quale è stato richiesto un preventivo per la fornitura e installazione dei due motori. La ditta in questione ha presentato un'offerta complessiva pari a circa 22.000 euro per lo smontaggio della coppia dei motori in dotazione e il successivo montaggio dei motori nuovi, completo di cavetteria e ogni altro materiale occorrente.